Ciao a tutti! Benvenuti in questo nuovo video. Oggi non mi vedrete perché oggi vi faccio vedere tutte le mie palette occhi. Come vedete sono tante, le ho pesate, sono esattamente 8 kg di palette e quindi io mi sbrigo a farvele vedere. Allora, pesco a caso, la prima che mi viene sotto mano è questa qua di Mulac, che è la different, che è la prima palette uscita in casa Mulac. Penso anche se non ricordo male il primo prodotto Mulac, che ha uno specchio, ciao questa sono io, e questi ombretti qua. Come vedete questo è molto usato e ha queste colorazioni. Molto bella, la uso ancora. Anche se ha cambiato un po' l'odore, sa un pochino di carciofo, sinceramente. Però vedete che l'ho utilizzata e mi piace. Poi andiamo avanti, se no qui veramente non arriviamo mai. Sempre a caso pesco questa qua di NYX, invece che è la Perfect Filter, nella colorazione rustica antica. Ecco qua il nome, qui vedete comunque tutto. E ha queste tonalità. Questa è una bellissima palette. Ve la consiglio, ad esempio vi faccio vedere. Sì, cioè vi farò qualche sboccino magari. Vedete quanto è scrivente anche questo color panno opaco. Infatti non so se si vede, ma l'ho scavato. E comunque tutti i colori sono molto molto belli. Questa mi piace tanto. Poi, allora, quelle che riesco a prendere prima, perché comunque stanno un po' in fondo, ma poi piano piano andremo avanti. La Natural Matte di Too Faced, che anche questa ha un po' di annetti. Come vedete ha uno specchio. Sì, tutti gli specchi saranno tutti zozzi, perché non li uso per truccarmi, ma... Cioè, finisce lì il discorso. Non li uso per truccarmi, quindi non è che li pulisco. Uso un altro specchio. Vedete che questo qua, che è even, è scavato. È il color panno opaco, che fa sempre utile. E questi sono tutti, come dice il nome della palette, Natural Matte. Tutti colori naturali, opati. Anche questa è sfruttatissima, mi piace tantissimo. E è bellissimo il packaging in latta. Che cos'è questo? Non lo so. Non so se questa tipologia di palette la trovate ancora. Così. Mi sa che gli hanno rifatto il packaging. Poi, andiamo avanti. Peschiamo Makeup Revolution. Anche questa qua è bellissima. Reloaded si chiama. È degli Iconic Division. È di Makeup Revolution. Io l'ho acquistata sul sito Tam Beauty, che è diventato proprio Revolution, mi pare. E questa marca io la sto amando ultimamente. Praticamente è il dupe della Subsculture, sì, di Anastasia Beverly Hills. Io non ho quella. Ho altre palette di Anastasia Beverly Hills, dopo le vedrete. Ho solo questa. Cioè, non ho quella lì, mi va a farvi vedere a paragoni, ma vi dico che... Cioè, la qualità è... È molto, molto buona. Ci ho già fatto un make-up, l'ho già usata più volte e l'adoro. E vi faccio vedere subito quest'altra, perciò sta qui, della W7, in questo caso. Si chiama On The Rocks. Molto carino anche il packaging. Questo è il retro. E anche questa è la dupe, sempre della Subsculture di Anastasia Beverly Hills. E mi piacciono, vedete a confronto, mi piacciono comunque entrambie molto. Sono dei validi dupe, contanto che questa costa sui 4 euro, questa pure. Sì, stiamo lì, insomma. E vi volevo infatti fare un video di confronto. Fatemi sapere se vi può interessare, anche se non ho proprio la reale. Ho solo i fake, però sono molto validi. Se volete vi faccio vedere. Andiamo avanti. Pesco questa qua sotto, che è la Naked 3. di Urban Decay. L'ho fatto così. Questa è quella col packaging in latta. Dà le tonalità rosate. Specchio sempre sporco. Vedete che c'era qui un pennello. E anche, scusate, anche nella W7 c'era un pennello. Mentre nella Different di Mulac, c'era l'eyeliner di Mulac. Anche quello buonissimo, tra l'altro. E niente, queste sono le colorazioni. Comunque, l'ho usata. Solo che, secondo me, cioè, quando io ho iniziato ad appassionarmi, le Naked erano praticamente... Cioè, se tu non avevi la Naked non eri nessuno. Erano considerate proprio... Il Naked Plus Ultra, si dice. Invece, a me non piacciono tantissimo. Questa è delle tre che ho, quella che mi piace di più. Però vi devo dire che, qualitativamente, il livello delle polveri non è poi così alto. Ad oggi ci sono tantissimi altri brand che fanno tantissime altre palette, anche a meno come Makeup Revolution, di qualità proprio eccenza e non ha più confronto a loro. Questa qua, invece di Too Faced, è un po' sozza perché, comunque, io le uso. Io ci provo a mantenerle bene, ma purtroppo... Era di una collezione edizione limitata, di Natale. Scusate, sono ancora raffreddata. E, praticamente, è fatta così. Questa è molto comoda, me la sono portata anche nei viaggi, alcune volte, perché, se notate, anche se la disposizione è un po' a... Vabbè, non ve lo dico. Un po' così, alla buona, diciamo. Abbiamo, comunque, due colori opachi per l'arcata sovraccigliare. Giusto, sì. Uno un po' più tendente al giallo e un altro, invece, proprio bianco. Scusate, questa voce nasale. Poi abbiamo dei colori di transizione opachi, che sono più freddi e più caldi. Uno più scuro, il nero, i blush, l'illuminante e un bronzer, no, una terra. E abbiamo, comunque, questi colori più particolari, i shimmerini. Quindi, è una palette molto completa. E anche questo qui, ve lo faccio vedere, questo qua, già che ci siamo, è bellissimo. Veramente molto, molto bella questa qua. Poi, andiamo avanti, le sto pulendo un po' le mani, perché me le sto zozzando tutte piano piano, ma io lo sapevo che andava a fighi così. Vado un po' più giù, e anzi, venite a me. Paletto, piano piano le farò venite più in avanti. Che cosa è successo? Eccoci qua. Faccio vedere questa qua. Questa qui, sempre di W7. Ok. Invece la Delicious, che sarebbe la tube di questa qua, la Modern Renaissance. Sto avendo dei problemi con la luce. Ok, aspettate. Dicevo che è la copia, eccola qua. E vi ho fatto già un video, in cui ve le svuoccio vicine, ve le faccio vedere, e vi faccio anche un trucco, un occhio con uno, un occhio con un altro, e vi faccio vedere che questa, comunque, è ottima. Anche questa ha il suo pennellino, anche questa costa su 3-4 euro, una cosa del genere. Sono palette ottime. Quindi questo marchio mi ha sorpresa tantissimo. E già che ci stiamo, a questo punto vi faccio vedere la Modern Renaissance di Anastasia 2x, che io tengo la sua custodia per non farla sporcare, ma come potete vedere, purtroppo, essendo in velluto, non aiuta. Anche questa ha il suo specchio, e ci sono queste colorazioni qua. Ok, sto spostando la luce per non darvi troppo fastidio. Ecco qua. Ve le faccio vedere, magari, vicino. Velocemente. Vedete che sono uguali. Vi ho fatto un video al riguardo, quindi se vi interessa, lo potete andare a vedere. Lo mettiamo tutto a posto, perché c'ho paura. Ok. Che si sbocchia ancora di più. Dove andiamo a parare? Andiamo, vediamo, vediamo. Questa. Questa qui, che è di Becca, ciao. Ciao, re. E è una grandissimissimissima sola. Ma poi, tra l'altro, questo sta pure al contrario, me lo scordo sempre. È una grandissima sola, perché a vederla così, sì, packaging fighissimo. L'aprite, se ce ne riesco, avete uno specchio gigante. Cioè, pack veramente non bello, qualcosa di più. Qualità, pessima. Cioè, questa costa, sui 30-40 euro, non mi ricordo, io l'ho pagata di meno. Se no, col cavolo che l'acquistavo, infatti facevo bene. Che a vederla così, non pare male. Ma poi, sull'occhio, sugli occhi, insomma, sulle palpebre, la resa è veramente, veramente pessima. Perché, vi dico, guardare così sembra una buona palette. Invece vi dico proprio di no. Quindi, se potete, se la volete, insomma, pensateci più volte, bypassate. Perché non ne vale la pena. Ok, ho fatto un attimo una pausa, perché mi sono andata ad aprire le mani. E continuiamo subito con questa qua. Che è la Naked 2, come vi dicevo io, la 1, la 2 e la 3. E poi non ho più comprate, perché non mi hanno più attirato. Perché ho capito che non mi piacciono. Vedete che sono anche un po' scavati, ma queste hanno veramente... Questa io l'ho comprata appena uscita. Quindi, comunque, un po' di tempo è passato. Costa, se non sbaglio, 45 euro, quasi 50 euro, comunque. E, vi dico che, se dovete scegliere tra Urban Decay e un marchio, insomma, che costa, io vi consiglio di più di andare su una Too Faced. Che il pack, comunque, è carino. Questi sono fatti con polvere di cacao, se non sbaglio. L'odore... Scusate, ma devo sniffar. L'odore è di cioccolato e lo sento anche se sono ammalata. Gli ombretti, la grana delle polveri, proprio è buona. Si sfumano da Dio. Cioè, io vi consiglio più Too Faced. A quanto... Proprio... Nemmeno come colorazioni, proprio come qualità delle polveri. Non mi piace. Comunque, ho questa qua. Le ho fatte vedere dietro. Queste venivano tutte con pennello e, mi pare, Premier Potion. Quello mi piace tantissimo, ad esempio. Già che ci siamo, questa qua è la Chocolate Bar. La prima. Eccola qua. Questa mi piace tanto, devo dire. Sia perché è piacevole... Sono sincera, è piacevole l'odore. È carina. Ha comunque colori sfruttabili. Vi faccio vedere comunque l'ho usata. Questo qua è carinissimo. Con questo... Allora, questo sotto... Questo sotto il sopracciglio. Questo nella piega. E questo qui sulla partebra viene carinissimo. Cioè, sono comunque colori carini. Quindi, ad oggi, sono sincera, ad oggi io non la ricomprerei semplicemente perché, piano piano che stiamo avanti, il makeup, come tutte le cose, si è evoluto e sul mercato trovate soluzioni migliori, anche a prezzi molto più bassi e convenienti. Insomma, quindi io non lo riprenderei. Però ce l'ho, è un pezzo di storia, tra virgolette. E me la tengo con molto piacere. Insomma, cioè, io sono molto fiera della mia collezione. Che comunque uso, perché sennò sarebbe uno spreco. Sto bypassando fino all'inverosibile, perché questa è bellissima. Questa qua è la Rose Gold Palette. Sì, Rose Gold Edition Shadow Palette di Huda Beauty. Quindi, io qui non dovrei più parlare. Oh, la ring light. E semplicemente dovrei fare così. Lasciarmi a guardare i riflessi di questi ombretti. Questa, diciamo, che per me è una palette che vale alla grande i soldi che costa. Anzi, secondo me, costa anche poco, confrontandola a poi la qualità. Si sfuma da Dio. Ha molte tonalità. Cioè, nel senso, sono bilanciate caldi, freddi. Colori che servono. Quindi un panna, nero. Colori da transizioni freddi, caldi. Colori più particolari per la transizione. Un colore molto particolare. Scimmerini barra glitterosi che sono burro e sono... Cioè, sono orgasmo allo stato puro. Ecco, qui ho fatto un swatch bruttissimo. Però, ecco, cioè... Sull'occhio sono luce pura, ma proprio... Cioè, non ci sono parole. Questa qua, non so se la devono... Cioè, su sefala, su sefala, mi sa che già non c'è più, se non mi sbaglio. Correte a prenderla, perché vale veramente i soldi che costa. E anzi, è pure troppo poco. Non dico più niente, l'adoro, l'adoro. Se volete un trucco... Ah, ovviamente, se volete un trucco, qualsiasi palette che vi sto facendo vedere, una recensione, qualsiasi cosa, voi ditemelo qua sotto. E io appena posso, insomma, vi... Vi sto a dire tutti i vostri desideri. Se posso. Questa qui, ovviamente, è la Huda Beauty, sempre. Desert Dusk Palette, che è uscita quest'anno. Qui mi soffermo un attimino, scusatemi. Allora, vi ho... L'ho dato questa qua. Questa qui, l'ho presa proprio a occhi chiusi. No, che sto dicendo? Io questa l'ho presa insieme. Sì, io questa l'ho acquistata insieme, perché ancora non avevo niente di Huda Beauty. E inizialmente ho provato questa. E ho detto, vabbè. Perché era appena uscita, tutto quanto. Ah, comunque specchio enorme, come sempre. Sì, non è male. Anche questo glitter plessato, che è bellissimo, si chiama Cosmo. Delle colorazioni particolari. Ma a livello di qualità, questa qui non ha niente a che vedere con quest'altra. Cioè, quest'altra è una cosa assurda, veramente. Gli opachi stiamo lì, diciamo, come qualità. Ma questi più scimmerini... Cioè, questi sono colori metallizzati normali che troviamo in commercio. Questi sono crema, che quando vanno sull'occhio... Cioè, vedete? Sono luce pura. È un'altra cosa. Tutto altro mondo. E quindi... No, non vi sto dicendo che ve la sconsiglio, perché comunque è una bella palette. Mi piace. Infatti, come si può vedere, l'ho usata. L'ho usata anche in un video. Però, tra le due, questa qua vince la grandissima. Andiamo avanti, perché se sto a tre ore sui debbiuti non finimo più, perché guardate qua che c'è proprio il panico. Allora, vado di naked. Ecco, se le ho tanto buttate giù quelle altre, tipo questa qua, che dopo tra un po' vi faccio vedere che pure questa qui... Questa qui, adesso abbiamo una parentesi a parte. Queste altre due, dove è l'altra? Eccola qui. Io ho anche la Naked Basic 1 e 2. E adesso vi faccio vedere, ditemi voi se mi è piaciuta o no. Cioè, sono... La qualità di questi ombretti è completamente diversa dagli altri. Mi piacciono tantissimo, si sfumano bene. E ce l'ho da tanto, comunque. Vedete che il colore della transizione Naked 2, questo qui, è perfetto. Mi piace tanto. Mi piace tanto. E una paletta del genere serve. Questa è la 2. E ho queste tonalità, invece. Questa è un po' meno usata, semplicemente perché andavo sempre a pescare quest'altra. Questa qui, anche perché ha più anni e preferirei finirla. Però, le adoro. Anche questa, non so se si nota. Sì, penso di sì. Comunque, anche qui, il colore di questo qua è scavato. E mi piace. Mi piacciono. Sono piccole. Si portano facilmente in giro. Ve le consiglio tanto queste qua. È uscita anche la Naked Basic Heat. Una cosa del genere. Quindi quella di toni caldi, però in versione mini. Quella non mi ispira per niente. Anche perché ho molti paletti dei toni caldi. Andiamo avanti. Sì, vi dicevo che vi facevo vedere questa. Su questa, scusate se è sozza. Anzi, anche troppo pulita perché considerano gli anni che ha. E il fatto che è di velluto è anche troppo pulita. Questa qui viene decantata, la Naked 1, di Urban Decay, in ogni dove. Da chiunque. Io non posso dire che la odio perché è puraccia. Però, devo essere sincera, l'ho presa lì per lì. Presa dalla foca del col... Cioè, perché andava tantissimo. La volevo provare. È stato uno dei primi prodotti, insomma, costosi di make-up che ho preso. Perché nei tempi, quando ho iniziato io a appassionarmi, questo era il clou. Le cose più belle, più importanti che uno doveva avere per forza. Non l'ho presa solo perché l'hanno presa tutti, per carità di Dio. Lì per lì mi pareva chissà cosa. Poi provandola, non vi dico che fa schifo. Perché non è così. Però non mi dice niente. Cioè, vedete laggiù? Cioè, laggiù... Laggiù c'è roba pesante. Laggiù c'è roba pesante. E fra un po' la vediamo. Quindi, no, vi dico, mi sforzo... Cioè, non mi piace... Quando mi sforzo di usarla perché dico, vabbè, è un peccato, usiamo la... Sì, il risultato mi piace, ma è un risultato così da tutti i giorni, tranquillo. Non è il risultato che piace a me. Quindi... Nè. Però, la tengo. Ovviamente. Cioè, non è un butto tengo, eh. Ve lo sto facendo vedere, però vi dico. Questi qua, invece, sono gli ovetti di High Heart Makeup. Che io ho preso dal sito sempre Tam Beauty, che sarebbe Makeup Revolution. E sono questi qua. Ve li faccio vedere molto, molto velocemente. Questi anche ottimi. Anche troppo, nel senso, come vi dicevo, non c'entra niente il prezzo. Perché, ad esempio, questi ombretti, questi illuminanti, scrivono da paura. Io li sto prendendo a caso, cioè... Bang. Che cavolo vi prendo? No, prendiamo un'altra palettina. Scusate, ma sto veramente male. C'è una palettina... Vabbè, pure questo mi piace tanto. Vediamola. Che mi ricordano... E qui non vorrebbe stemmiare. Mi ricordano la grana di questi qua. Di Vuda Beauty. Infatti, vedete che la luce è quella. Sembra pure un diupo, questo. Saperemo, facciamo una cosa carina. Le mettiamo a confronto, tanto già che ci siamo. Cioè, questa è un'altra cosa, comunque, perché è glitter e luce pura. Però, il colore... No. Eh. Eh. Devo dire che gli dà quasi una pista, i heart make-up. Però, vabbè. Andiamo avanti. Dicevo, non vi dilungo tanto a farveli vedere, perché vi ho fatto un video, ultimamente, in cui ve li mostro. Un video su Watch. Vi li mostro tutti. Proprio per bene. E quindi, proprio alla veloce. Ma, se vi interessa, andate a vedere quel video. Fate prima. Oddio, ho ancora tutte le mani sozze. Mi sto sporcando. Ve li faccio vedere subito tutti. Così mi levo il pensiero. Sono carinissimi. Io, sono sincera, li ho presi per il packaging, perché sono troppo carini e costano poco. Mi pare 6-7 euro. Ma mi sa che li trovate anche a meno. Non lo so. Però, non mi ha aspettato tutta questa qualità. Quindi, mi sono ritrovata a comprare un prodotto solo per il packaging. Che poi, io mi sono... Ultimamente, sono drogata di Makeup Revolution. Cioè, non sto scherzando. Qualsiasi cosa sfornano. È una cosa fantastica. Cioè, proprio, la qualità è altissima. Il costo è piccolissimo. Ad esempio, questa qua. Che ha anche la dust bag. In velluto. Guardate che sciccheria. Questo è il nome. C'è anche un'altra versione bianca con tutti i colori opachi. Si apre così. Uno specchio. Ovviamente. E anche questi. Guardate qua, che belli. E questo pennellino che può sembrare una sola. Non lo è. Perché comunque è in setole e non è malvagissimo. Cioè, è bellissimo. Poi, cioè, immaginatevi a fare i ritocchi in bagno. Magari state al ristorante. Tirate una cosa del genere e fate rosicattute dentro il bagno. Sì, vabbè, questa è malattia. Questa è malattia. Scusate, ma... Io amo troppo queste cose. Ultimamente ho proprio la fissa delle palette. E questa non mi ricordo quanto costa. Per esempio, 5-6 euro. Cioè, stiamo lì comunque sotto i 10. Pure qua. Questa andiamo di categoria. Questa io la amo. L'ho presa così. Primo perché non avevo... Non sa niente di Nars. No, ho solo un rossetto che è Charlotte, se non mi sbaglio. Cosa non è questa palette? Secondo me, a livello proprio di cromia, cioè nel senso di colori, hanno raggiunto praticamente la perfezione. È una cosa assurda. La qualità è buona. Vedete, comunque abbiamo degli ombretti che scrivono. Questi qua glitterati io li devo a vedere. Cioè, sono una cosa assurda. È bellissima. Colori particolari. Bellissima. Questo qui, poi, che è un marrone scuro, molto scuro e freddo, sostituisce il nero, dando però... Non hai glitter, eh? Sono io che ho tutte le dita a sozze e l'ho sporcato. Dicevo, da al trucco, non so che... Cioè, non so come dirlo. Si sostituisce la perfezione al nero e il risultato è migliore. Ecco. Perché avrei più profondità. Se voi usate un colore del genere, verrà un effetto, sì... Cioè, un effetto occhio profondo, profondità sull'occhio. Non so, non so, mi sto in trippa troppo. Però sarà molto più delicato e più bello. Almeno sul mio occhio, che è verde, sui miei occhi, che sono verdi, è meglio usare un colore del genere. Comunque, boh, non lo so. Tutti questi colori sono bellissimi. Perfetta. Mi piace tantissimo questa qui. Ok. Altra pausa per pulirmi le mani. E andiamo avanti. Questa qui è una palettina che ho preso su Amazon. Il marchio è questo qui, De Lanci. Che ultimamente mi sembra che stia diventando abbastanza famoso. Famoso più che altro per i glitter. Poi vedremo anche quelli, ovviamente. E la palettina è questa qua. Molto, molto carina. Veramente. Mi piace tanto. E niente. Non mi soffermo più di tanto, perché se no non finiamo più. E sto vedendo che viene un video lunghissimo. Comunque questa sui 16 euro. Si può fare benissimo. Andiamo avanti con questa qua di Kat Von D. Alchemist Holographic Palette. Che sì, è una palettina di... Cioè, l'ho inserita perché fondamentalmente io questi li uso come illuminanti. Per il viso. Però sarebbe una paletta occhi, se non sbaglio. E io questa cosa... L'ho scoperto... Ah no, face and eyes. And eye, vabbè. Nel senso, viso e occhi. Però io pensavo che fosse per il viso. L'ho scoperto dopo che era anche per gli occhi. Quindi ve l'ho inserita. Perché sì, comunque c'è scritto. Quindi va bene. Basta, perché mi sto dilungando così tanto. Ecco qua. Vedete l'effetto olografico stupendo che adoro. Cioè, questo è bellissimo. Anche solo per fare così. Ti potete mettere lì per 5 minuti. Fai così. Sta in pace col mondo. E va bene. Vedete la malattia? Ok. Lo specchio. Questa volta è un po' più piccolo e triangolare. E queste sono le colorazioni che mi sa che non vedete. Non lo so se le vedete bene. Però mi ricordo che abbiamo fatto un video anche su questa. In cui ve le ho sbocciate. Non mi ricordo il video. Era messa al video haul. Oh. Mi sa che da più lontano così. Vedete meglio. Vediamo un po'. Perché secondo me è questa luce che vi danno. Vediamo. Vabbè. Comunque. Abbiamo questo colore qui. Che è tendente al verde. Questo qua blu. Tendente al blu. Tutti bianchi di base ma con riflessi. Questo qua rosa. E questo qua acquamarina. Faccio vedere. Comunque anche questi. Sì. Già mi rimpiocetto tutta. Cioè. Oddio. Ve le ho fatti proprio appiccicati. Comunque vedete che scrivono. Tantissimo. E questa cosa mi spaventava. Ma poi si sfumano anche benissimo. Quindi sul video mi risultano. Un effetto tra qui. Comunque troppo bang. È un effetto. Che ci piace. Andiamo avanti con Uda Beauty. Ho preso questa qua. Che voi dovete avere. Nel senso. Questa qua. Se vi ho notato l'altra. Questa anche è perfetta. Perché è piccolissima. Anche più piccola. Di una naked. Sì. Alla fine sì. Vedete. Naked basic. Sì. Allo specchio. Comunque comodo. Perché è abbastanza grande. E questa qui. Nello specifico. Ha questi colori qua. Bellissimi. Veramente. Mi piacciono. Tantissimo. Veramente tanto. Ve la consiglio tantissimo. Soprattutto questa colorazione. Che è la Move Obsession. Sì. Bellissima. Veramente molto molto bella. Anche se questa. Qualitativamente. Mhè. Restiamo lì. Questo colore qui. È un po' difficile da sfumare. Questi qui. Sono molto belli. Cioè. Questa costa molto meno. Delle altre. Coste sui 20. Sì. Sui 20. Sui 30. Mi pare. Sì. 30. Qualcosa. Però. Io vi dico. Sì. Per i soldi. Per il fatto che è piccolino. E tutto quanto. Prendetela almeno una. Perché ce ne sono più tipi. E io infatti. Ho preso anche questa qua. Oh mio Dio. Che è la warm brown. Che invece ha queste altre colorazioni. Che vi dico la verità. Un pochino mi sono pentita. Perché sempre i soliti caldini. E basta. Basta con tutti questi caldi. Però. Mi piace. Cioè. Non è che non la utilizzo. La utilizzo. Anche. Soprattutto questo colore qua. Che è un po' falsato. Questo è proprio un pesca. Voi mi sa che lo vedete come arancione. È bellissimo. Andiamo avanti. Perché mi dilungo sempre troppo. Mi sta affinando l'acqua. Sto facendo fatica. Perché questo video non finisce più. Questa è la semi sweet chocolate bar. Quindi la. Quella. La seconda. Dopo la chocolate bar 1. Cioè questa qua. Questa qui. E poi è uscita subito questa qua. Sempre con. Oh mio Dio. Stava per solicitare la chocolate bar. Con odori celestiani di cacao. Perché gli operti sono fatti in cacao. Queste sono le colorazioni. Potete vedere che il panno è molto apprezzato. E. Anche questa profuma tantissimo. È buonissimo. Faccio vedere. Un attimo. Una carretà di colori. E. Oh mio Dio. Anche questa. Quella consiglio. Mi piace. Questa qua. È arrivata. L'altro giorno. L'ho presa su wish. Ecco. Questo è il marchio. Vedete. L'ho pagata. 5 euro. 6. 6 euro. Mi pare. Vi ho fatto anche un vlog. In cui ve la faccio vedere un po' meglio. Perché era il giorno in cui l'ho presa. Come è arrivata. Però. Non lo so. Se quel vlog andrà online. Non lo so. Quindi. Comunque. Vabbè. Ve la faccio vedere. E vi dico che non me l'aspettavo. Allo specchio. E ha questi colori. Che sì. Si vede. Sono come burro. Cioè. Guardate. C'è una cosa assurda. E anti stress. E. Anche qua. Bang. Una palette costa 6 euro. Bellissima. Colori. Anche qui. Molto ben calibrati. Panna. Nero. Colori di transizione. Colori particolari. Colori shimmer. Belli. Mi è piaciuta tanto. Se la volete vedere. La razione. Anche questa. Insomma. Fatemi sapere. Oh mio dio. Mi sono portata tutta. Non ce la faccio più. Makeup Revolution. Questa qua. È bellissima. Guardate. Un glitter puro. E questa qua. Life on the dance floor. E ha uno specchio enorme. Ciao. E queste colorazioni qui. Sui toni. Decisamente caldi. Ecco. Perché vi dico. Troppe cose calde. Basta. Anche questa. Qualità ottima. Mi piace tantissimo. Comincio un po' a rallentare. Perché sono stacca. Perché sono quasi le 11. Un po' a rallentare. E perché. E perché. Piero piano. Non ho più voce. Questa è la perfect filter. Prima vi ho fatto vedere. Quella tra le tonalità calde. Ci sono più tipi di queste palette. Questa invece è la Glow Me Days. Questa qua. E questa qui. Anche qua. Mi piace. Ci vuole una palette così. Dopo tutte queste palette calde. Questo è un colore particolare. Molto molto bello. Un bianco proprio. Cioè. Gesso. Molto scrivente. Mi piace. Andiamo avanti. Se sentite ronfare il sottofondo. È il cane. Che come sempre ci disturba. E non so se lo vedete. Sta là. In la sua cucetta a dormire. E sta rifando più forte del previsto. Anche questa qui. L'ho presa su Amazon. Il marchio è questo qui. Oh mio Dio. Perché è rosso. Che forte. E. Non mi ricordo. Questa sempre sui 10 euro. O comunque. Siamo giù di lì. Meno di 20 sicuro. Anche questa. Allo specchio. Ha delle cialde enormi. Enormi. Non so come farvi il confronto. Prendiamo. Cavolo. Non ne so. Naked. Uno che la conoscono tutti. Cioè. Guardate qua. E ha. Questa fila di colori opachi. E sotto questi glitter pressanti. Veramente. Qualità ottima. Mi piace tantissimo. Ve la consiglio. Ve la consiglio tanto. Molto molto bella. Questi qui sono gli ingredienti. Che non sono dei migliori ovviamente. Niente. Ve la consiglio. Vedete che è damascata. Bella. Bella. Oh mio Dio. Ce la faremo. Questa qui è la Pressed Glitter. Dei beauty. Dei beauty glaze. Anche questa qua presa su Amazon. E se ci riesco ad aprirla. Questi. Non abbiamo specchio. Questi sono i glitter. Ve li ho già fatti vedere più volte. Nel video. E nell'ultimo. Negli ultimi video. Insomma. Quello di get rid of me. Perché una ragazza mi aveva chiesto di farglieli vedere. E niente. Eccoli qua. Sono questi. Questa qui. Buona. Nel senso. Senza infame. Senza lode. Colori accettabili. Si applicano bene. Queste ve lo faccio vedere. Uno. Justo per. Hanno loro. Non sono glitter pressati. Un minimo di colla. Ce l'hanno all'interno. Ma non fanno quell'effetto colloso. Che poi fa le pieghette. Tutto quanto. No. Quindi vedete un po' a chiazze. Perché non ho un primer sotto. Per i glitter. O cosa del genere. A base appiccicosa. Ma sull'occhio. Rendono veramente bene. L'ho provata più volte. E mi trovo. Molto molto bene. Quindi. Ve la consiglio. Vi faccio vedere anche il retro. Ok. Video eterni. E dove trovarli. Mi arrivato a pulire le mani. Continuiamo. Allora. Piano piano. Stiamo finendo eh. Questa qui. E' una palette di Hit Style. Si chiama Smoky Natural. Costa poco. Non mi ricordo quanto. 14. Non lo so. Non me lo ricordo. Però. Vi ho fatto un video. In cui lo faccio vedere all'azione. E vi dico che cosa ne penso. Secondo me. Ne vale la pena. Eccola qua. Non so se ve la faccio vedere all'azione. In quel video. Comunque. In quel video. In cui ve ne parlo meglio. Ve la faccio vedere. Vi faccio vedere qui su Watch. Anche se non sbaglio. Queste sono le tonalità. Molto molto carina. In cartone. Poi mi piacciono molto le confezioni. Le confezioni che preferisco sono o in cartone o in latta. Veniamo a questa qua. Dei lanci. Vi dicevo. E' famosa per questa palette. Solitamente. Perché. Capisco il perché. Perché. Quanti giri di perché. Cioè. Morale della favola. È bellissima. È stupenda. Mi piace tantissimo. Guardate qua. Ve la giro per farvi. Captare tutte le tonalità. Le sfaccettature. Di bellitudine. Di vestigliette rozzi. Sì. Vabbè raga. Sono stanca. Sono molto stanca. Mamma mia. Che bella. Questa è bellissima. È veramente. Bellissima. E la qualità. Non è ottima. Qualcosa di più. Ve la consiglio tantissimo. Questa costa. Pure questa. 16 euro. 10 euro. Non me lo ricordo. Comunque meno di 20 sicuro. Ve la consiglio tantissimo. La trovate. Se andate su Amazon. E scrivete dei lanci. La trovate subito. Cioè. Veramente. Ve la consiglio tantissimo. Che con gli ingredienti. Andiamo avanti. rimanendo in tema glitter. Faccio vedere queste due palettine di mulac. Di glitter. Per l'appunto. E abbiamo. Questa qua. Che è Antitude. Vedete che sono da mascare. Molto molto belle. E queste sono. Le cialde. Mi piacciono anche questi qua. Devo dire. Questo qui anche. È molto comodo. Come. Diciamo. Primer per glitter. Sarebbe una colla. Non so come definirlo. Si chiama Elisir. Chiamiamolo questo. Lo che facciamo prima. E questa qua. Che secondo me è ancora più bella. Che è la Toxic. Sì. Sì. Bellissima. Soprattutto questo colore qui. Che ho usato tantissimo. Cioè. Molto. 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 Bello. Queste. Come sai. Io l'ho presa a sconto. Sì. L'ho presa a sconto. Non mi ricordo quanto. Ma a sconto. E. Mulac. Penso sia il marchio. Uno dei marchi che mi piace di più. Nel senso che. Mi piacciono. Tutti i loro prodotti. Veramente. Un marchio ottimo. Makeup Revolution. Ecco qua. Torniamo sempre alle origini. Reloaded. Questa qua. Fa parte della categoria. Di quelle palettine. Che costano sui 4 euro. 4,99. Insomma. Una cosa del genere. E anche qui. Questi oberti qua. Metallizzati. Sono burro. E scrivono tantissimo. Vabbè. Uno swatch. Ve lo devo fare. Ho capito. Cioè. Bellissima. Veramente bellissima. Oddio. Lo vorrei swatcha tutta. È quello il problema. Cioè. Abbiamo capito. Che non è tutto oro. Quello che lucida. Non so se c'entra qualcosa. Non intendo dire che. Non bisogna pagare per forza. 50 euro. Una palette. Per far sì che sia buona. Questa è la dimostrazione. Come è anche vero. Che a volte. Voi pagate una palette poco. Però. Fa veramente. Schifo. E sto parlando di lei. Questa qua. Della. Cleof Cosmetics. Che ho comprato. Su. Wish. Che a vederla così. È fighissima. Questa è la confezione. Secondaria. Questa è la primaria. Che penso forse a qualcuno. Ma molti di voi diranno. Mamma mia. Che figa. Eccola qua. L'aprite. Vabbè. Lo specchio è arrivato rotto. Però. Sti cavoli. Tanto. Già sto messa male. Lo specchio più rotto. Lo specchio meno rotto. Sti cavoli. Questa è la palette. Ispirata. Alla cota delle sirene. Fa schifo. Cioè. Questa. Fa schifo. E digli è poco. Cioè. Questi qui. Sono colla. Vedete. Non scrivono. Di glitter. Non c'è niente. Sono liquidissimi. Proprio schifo. 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 Raga. Più che così. Non so. Che diventa. Alcuni. Poi. Non sono. Ecco. Tipo. Questo. Non è malvagissimo. Però no. Allora. Questi qui. Opachi. Invece. Questi sono. Dei proprio ombretti. Questi. Non sono. Malvagissimi. Ok. Oddio. Non stanno a fare una brutta figura. Vedete. Un pochetto scrivono. Questi qua. Non mi piacciono proprio i colori. È proprio una palette. Da. Da. Cioè. Da bambine. Cioè. La qualità. Proprio schifosa. Non è mai stata pagata 4 euro. Infatti. Fa schifo. Cioè. Però. Quest'altra. Pure. L'ho pagata 4 euro. Ed è magnifica. Come vi ho fatto vedere. Insomma. Guardate qua. Che swatch. No. Questa. O la butterò. O la regalerò a qualche bambina. Non lo so. Fa schifo. Fa veramente. Schifo. E è un peccato. Perché il packaging. Mi piace tanto. Io mi risolto. Sono stata tutte le mani. Mannaggia a me. Provo a pulirmi. Così. E andiamo avanti. Perché se no. Non finiamo più. Questa qua. È una palettina di essence. Anche qui. Mi pare 4 euro. Che se ci penso. Cioè. Paga 4 euro questa. Che è ottima. E proprio a questa. Vabbè. Ovviamente. C'erano i nani. Io li chiamo così. Cioè. I conigli. E si. Si muove. Anche se fai così. È troppo. Troppo carina. Mi piace tantissimo. Questa cosa. L'ho comprata per i conigli. Sì. L'ho comprata per il packaging. Non ci posso fare niente. E ha questi colori qua. Io l'ho presa per il packaging. Però poi provandola. Non è niente male. Vi devo dire che non è niente male. Non mi ricordo dove c'è scritto. Però ho scoperto. Che sarebbe sì. Una paletta d'occhi. Ma anche. C'è scritta highlighter. Penso perché questo. Per loro. È giustamente anche un illuminante. Questo qua. È bellissimo. Ad esempio. Volevo far vedere. Non si sta vedendo. Come faccio? Ve lo metto qua. Guardate quanto è bello. E quindi. Oltre al packaging. La uso. Ok. Ce la possiamo fare. Penso che questo video. Lo dividerò in due parti. Ma tanto. L'avrete già scoperto. In tal caso. Vabbè. Perché ho visto. Che sta avvenendo. Più lungo. Di quanto pensavo. Vabbè. Vi faccio vedere. Quest'altra paletta. Che invece è di Wagon. Gashan's Secret. Penso che era la collezione. Questa. La numero 01. Anche questa. Con lo specchio. Rigolosamente. Il sozzo. E questi colori. Molto. Molto belli. Abbiamo. Decoltonalità. Abbiamo questo. Panna. Tendente. Un po' a rosa. Ma comunque panna. Questo rosino chiaro. Un rosa fucsiato. Più scuro. Questi due. Che sono gli unici metallici. Molto carini. E un arancione. Diciamo sì. Molto tenue. E un colore proprio da piega. Quindi questa anche. Molto molto valida. Peschiamo. Andiamo con Kiko. Questa è una vecchia collezione. Colour Impact. Eyeshadow Palette. 01. La Luge Warm Tones. È molto famosa. Perché ha dei. Questi ombretti. Che sono scriventosissimi. Non so se si dice. Specchietto come sempre. Non so se si dice. Però insomma. Scrive. Scrivono. Veramente. Veramente. Tanto. Soprattutto. Gli opachi. Vedete infatti. Questo al buco. Che è veramente incredibile. È entrato il cane. Vabbè. Sempre Kiko. Questa qua invece. È una collezione. Che è uscita recentemente. Quindi penso. Che la trovate ancora. Ce ne sono due. Di queste palette. Vediamo. Free Soul. La collezione. Il cane. Deve decidere ovviamente. Di rompere le scatole. Dopo adesso. Questa è la 02. Find Yourself. Non so se lo vedete. Ce ne è anche un'altra. Che è la 01. E è questa. Ha queste tonalità. Opache. E questo qua. Questo è pazzesco. Questi sono glitter. Cioè. Questo lo devo far vedere. Per forza. Ecco. Non so se riesco. Guardate quello che non è. È veramente. Bellissimo. Cioè. Spero che renda. Insomma. È stupendo. Infatti. Anche l'altra palette. Più o meno. Le tonità opache. Sono su questi toni. Mentre quest'altro colore. Invece. È un ramato. Molto molto bello. Se lo trovo in sconto. Quasi quasi. Questa qua. È la Dreamy. Eye shadow palette. Di Nabla. Che mi ha tenuto sempre. Un po'. Così. Nel senso. Non sapevo mai. Se prenderla. Non mi ha mai convinto. Poi alla fine. Mi ha convinto. Infatti. Eccola qua. E niente. Che vi devo dire. Bella. Molto molto bella. La selezione colori. Mi piace tantissimo. I colori sono validi. L'unico colore. Che non mi fa impazzire. È questo qua. Delirium. Però. Utilizzerò anche quello. Ovviamente. E niente. Ve la consiglio tantissimo. Guardate questo quanto è bello. Con questo tuo colore. Duo chrome. Non riesco più a parlare. Scusate. Guardate. Un oro rosa. Bellissimo. Bellissimo. Questo. Mi piace. Sta uscendo l'altra palette nuova. Di Nabla. Che ho visto che uscirà. Il 4 maggio. Se non sbaglio. Vediamo come sarà. Oggi sono usciti i colori. Però insomma. Non lo so. Guardate che quanto è bello. Questo ombretto. Mulac. Freak Show Circus. Questa collezione qui. Ecco la palettina. E ha lo specchio. Come sempre. E questi colori bellissimi. Allora. Quando è uscita. Io non avevo capito. Che questi qui. Non sono ombretti. Bensì. Glitter pressati. Come le altre palette di glitter. Che hanno qualità eccellenza. E sono bellissimi. Per quanto io non amo il blu. Cioè. Questo è bellissimo. Cioè. Scusate. Ma il cane mi sta veramente. Rendendo la vita impossibile. E dicevo. Che sono bellissimi. Mi piacciono tantissimo. Poi ci sono anche i colori opachi. Come sempre. Sono validissimi. Questo colore qui. Che all'interno ha dei glitter. Ma poi quando lo applicate. Insomma i glitter. Ne investiscono più di tanto. E questi qua. Questi due invece. Che sono shimmer metallici. Molto bella. Molto valida. L'ho usata più di una volta. Mi piace. Questa qua. Oh mio dio. Questa è la. Eh. Scatola esterna. Quindi il pack secondario. E si apre così. Sarebbe la palette di storybook. Che è proprio il nome del. Il marchio. E questa qui è quella dedicata. A Harry Potter. Vedete che è fatta a forma di libro. Cioè. È bellissima. È particolarissima. Anche qui specchio. Sì specchio. Il specchio delle mie provi. Ecco qua. I colori. Cioè. Molto. Bella e valida. E questa vi avevo promesso. Un video. Ma ancora non sono riuscita. Appena riesco. Comunque ve lo faccio. Dei lanci. L'altra era più piccola. Questa è più grande. Questa linea si chiama Nocturne. Infatti. È più grande. Ha uno specchio. Più grande. Ciao. È più pulito. Perché è recente. Ha tutti questi. Tutte queste colorazioni. Qui. Ok. E in più. Ha questa fila qui. Di glitter. Molto molto belli. Tranne questo. Che è un po' una sola. È un po' inutile. Perché è nero. E non si vedono tanto bene. Questo. Non so se lo percepite. Ma è bellissimo. Mille sfaccettature. E niente. Bella. Questa pure sotto 20 euro. 16, 17 euro. Non mi ricordo. Comunque si trovano su Amazon. Molto molto bella. La palette. Vedete che sotto. Ha tipo questo. Questa stampa in legno. è un finto legno. Molto molto bella. E ve le consiglio veramente. Queste qua. Come sempre. Dietro gli ingredienti. Ecco il tea free. Molto importante questa cosa. Oddio mio. Non ce la faccio più. Questa qua. Anche potere del packaging. Vieni a me. Cioè come potevo io. Non prenderla. Con tutti questi coniglietti. È bellissima. Non so se si vede. Ma alcune parti sono in rilievo. E sono in vellutino. È bellissima. Anche la scritta in vellutino. Questa è la Natural Love. E anche i colori. L'accostamento colori. Mi piace tantissimo. È veramente un capolavoro. Veramente troppo troppo carina. Questa qui. La predia. Tutti questi colori. Uno specchio enorme. Questa non so se era. Un'edizione limitata. Mi sa di sì. Eccola qua. Stupenda. Veramente. Vediamo un po' se mi avvicino. La luce. Se è meglio. Bellissima comunque. Mi piace. Ha sia colori opachi. Vedete. Che colori shimmer. E. Insomma. Potete fare un sacco di look con questa. Perché sono tanti tanti colori. Ecco. Questo mi smaglio l'ho anche. Scusate. Ma non taglierò. Perché. Come vi dico sempre. Io sono così. Sono. Vera. Fino all'inverosimile. E sì. È quarta a mezzanotte. E sono decisamente stanca. Questa è la different 2. Di Mulac. Guardate quanto è bella. E quanto in confronto alla prima. È più. Maneggevole. È più piccolina. Questo che cos'è. Questa è l'impronta del mio dito. Suppongo. Ma non capisco perché è rimasta così. Vabbè. È un dettaglio particolare. È più aggiunto alla palette. E ha. Lo specchio come sempre. E questi colori qui. Questa purtroppo ancora non l'ho sfruttata. Chissà quanto. L'ho utilizzata. Come si può vedere. Purtroppo le palette di Mulac si sporcano facilmente. Questo è. Diciamo l'unico difetto che posso trovare. Però è molto molto bello. Guardate. Questo qui. Questo qua. È un oro pieno pieno di glitter. Molto molto bello. Non so. Come farvi vedere bene. Bello. Bello bello bello. Come potete vedere abbiamo quasi finito. Quindi anche questa consigliatissima. Vado a pulire un po' le mani. Questa qua io non sapevo manco se metterla. Questa è una palette componibile di Wicon. Calamitata. Io ci ho messo un po' di ombretti. Questi sono Nabla. Questo è Extra Virgin. Me lo ricordo. Questo è Dream qualcosa. Water Dream. Esatto. Questi sono ovviamente glitter. È bellissimo questo. Questi qua sono tutti di neve. Questo è di puro bio che è bellissimo. Questo addirittura è un illuminante di Nabla. È upset. Perché non sapevo dobbiettolo. Mi piace tantissimo. Questo è di Inglot. Me l'hanno regalato una volta che ho fatto un acquisto. Ho comprato il gel per le sopracciglia. Che tra l'altro mi piace tanto. E niente. Non mi soffermo più di tanto. Sì, ve la sto facendo penare quella. Perché, insomma. Anastasia Beverly Hills. Ho preso quest'altra palette. Che è, come vi dicevo... Ma che sto a dire? È la Prism. Vi stavo per dire che è la Subsculture. Come vi dicevo. Ma non è la Subsculture. Questa è la Prism. L'ho presa per un semplice motivo. Io, sia questa che l'altra. La Modern Essence di Anastasia. Le ho prese a tipo 30 euro. Una cosa del genere. Le ho prese solo perché le trovate veramente a sconto. E quindi, in quel caso, mi sembrano affare. Perché vi dico questo? Ecco qua. Specchio. Specchio. Pec bellissimo. Comunque questo velluto nero è oro. Questi sono i colori molto belli. Che io non dico che non valgono. Però, non c'è la parità di peso tra qualità e prezzo. Perché, per quanto sia valida, non... Vediamo un po' che luce migliore posso usare. Non vale proprio tutti questi soldi. No. Mi pare che costino sui 50 euro, 60, giù di lì, insomma. No. Io vi consiglio di prenderli a sconto. Comunque, magari, anche da rimenditori. Qualcuno. Anche usate. Ad esempio, la Modern Innocence l'avevo comprata da una ragazza che l'aveva comprata, ovviamente. Ma non l'ha convinta. Ma era nuova. E me l'ha venduta sui 30 euro. Una cosa del genere. Cioè, non ho pagata niente. Quindi, non vi dico che è brutta. Però... Boh. Cioè, un Makeup Revolution che voi pagate molto meno è migliore. Cioè, se fate il rapporto, insomma. Questo scrive molto meno, ad esempio, di un RAM. E della Makeup Revolution. E quindi, però... Bella. Ha quel pezzo. Con quei soldi. Anche solo per... Ehm... Collezione va benissimo. Va bene. Comunque, non la sto bocciando, eh. Però... C'è molto, molto di meglio. Ecco, secondo me sono esaltate. Come si dice? Non si dice esaltate. Però, nel senso, quando una cosa ne parlano tutti e viene programmata come la migliore. Solo perché, per sentito dire, quando in realtà la fama, insomma, è solo così. Non ce la faccio, regà. Non ce la faccio più a parlare. Cioè, veramente sto morendo. Ehm... Vi faccio vedere le ultime due palette. Questa è di Kat Von D. Comunque, stavo dicendo in poche parole che questa qua, per quello... Cioè, tutti la esaltano... Le esaltano tantissimo queste palette. Poi, qualitativamente, se ti vai a comprare una Makeup Revolution che paghi mille volte di meno, Cioè, la Makeup Revolution paghi 4 euro e questa che la paghi quasi 60, la Makeup Revolution, comunque, vince. Quindi, boh. E c'avete pure più grammi di prodotto. Questa qua, sempre il solito discorso. L'ho preso a sconto. Volevo provare una di queste. Io volevo l'altra, non questa. Volevo quella lì dalle tonalità rosate. Però, c'era in sconto solo questa. L'ho pagata una cavolata. Non mi ricordo se 16 euro. Stava in sconto e l'ho pagata poco. Non mi ricordo quanto. E ha questi colori qua, tutti opachi. Quindi, un panna, un gringio da piega, questo verde qui scuro e questo colore da transizione chiaro. Che fanno sempre comodo. E vi devo dire che la qualità di Kat Von D, quanto riguarda le polveri, almeno questa qui che ho provato, è soprattutto quella che adesso ve lo dico. È altissimissima, mi piace da morire. E adesso arriviamo a questa palette che io ho tanto voluto e ho fatto bene. Perché, a parte essere proprio la collezione a chi ama il make-up, non può farsela sfuggire. È bellissima. Cioè, questa io non mi ricordo quanto costa, sinceramente. Non mi ricordo che costa 45,50 euro. Non me lo ricordo. Però, per una palette così ce li spendi. Soprattutto perché, vabbè, a parte la bellezza. Kat Von D è un genio soprattutto per disegnare i packaging. Non so se lo sapete, ma mi disegnavo tutto lei. Le polveri, a parte essere molto belli i colori, e tanti, sono una cosa sensazionale. Si sfumano da soli. C'è una qualità veramente alta. Poi, colori particolari. Vedete qua questo del lime. Bello, bello. Un colore, finalmente, con i glitter. Che tu dici, sì, vabbè, ma i glitter, tanto, quando poi li vai applicare sull'occhio, non si vedono. Invece i glitter, qui, quando li applici sull'occhio, si vedono e come. Cioè, questa è bellissima. Avete tutto. Perché avete più tonalità, sia da quelle più naturali a quelle più particolari. più particolari. Mi allontano un pochino, per farvi vedere meglio. Però, praticamente, il trucco ve lo fa da sola. Nel senso, questi ombretti si sfumano da soli. Infatti, vi faccio un'altra carrellata. Cioè, bellissima. Veramente, questa è la stra, stra, stra consiglio. E guardate qua. Cioè, ma che gli volete di? Che gli volete di? E questi sono tutti gli ombretti. Sì. I nomi degli ombretti. E io su questa stavo pensando... Ho fatto già un video make-up. Però ancora non l'ho caricata. È vecchissimo. Non lo so se lo caricherò. E... Ho visto il video di Carlotta. Di Ceri in Palermo del Mondio. In cui, praticamente, su un foglietto scriveva tutti i nomi degli ombretti. Li pescava a caso e ci faceva un make-up. Mi è sembrata un'idea carica. Forse lo farò anche io. Fatemi sapere se vi può interessare. E quindi, niente. Chiudiamo la paletta. Chiudiamo il video. Perché è anche troppo lungo. Io vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi piace comunque la tipologia, vi posso far vedere, che ne so, le palette da viso, gli illuminanti, altre categorie. A breve dovrei fare anche il decluttering. Quindi rimanete sintonizzati. Per qualsiasi cosa chiedetemi pure qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima. E niente. Ciao. 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 Grazie.